Dimmi te, eh? Marta Gazzarri, accoglienza sì, ma che sia un'accoglienza di qualità, come ha detto nell'informativa all'assessore Saccardi in aula. Sì, certo, l'informativa che segue le linee della regione toscana, che ha fatto anche nel passato delle scelte ben precise, non ci è centri di grande accoglienza sul territorio, ma un'accoglienza diffusa, un'accoglienza di qualità. Intervenire, parlare di immigrazione significa parlare di sanità, significa parlare di welfare, significa parlare di lavoro, di formazione, di tutti quei percorsi che riguardano la nostra vita. Quindi una seria politica di integrazione, il piano dell'immigrazione deve intersecarsi con tutti questi piani di settore, in una collaborazione stretta tra regione, enti locali e terzo settore. Io credo che l'immigrazione non può più essere vista come un problema avulso dalla nostra società, ma un problema, se qualcuno lo chiama problema, ma per me non è problema, è una realtà, che deve intersecarsi con percorsi di formazione nella nostra società. Più l'integrazione è di qualità, più è di qualità la società che noi viviamo.